Una gita fuori porta con lo specchio, buonasera, è davvero un privilegio questa domenica essere accolti al CERN di Ginevra dove migliaia di scienziati rispondono a domande infinitamente grandi guardando nell'infinitamente piccolo. Siamo qui perché la direttrice generale di questo leggendario laboratorio ha accettato di sedersi in nostra compagnia per questo incontro. Direttrice Fabiola Gianotti, buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per averci accolto perché siamo a casa sua. A casa mia, a Chenou, a Chenou, siete al CERN. Mezz'ora di tempo, quanto vale per una direttrice così occupata e a capo di 17 mila persone. Il tempo è importantissimo, è molto importante in fisica, per l'evoluzione dell'universo, ma è molto importante chiaramente in modo più pragmatico per la vita di tutti i giorni. Il lavoro al CERN è molto intenso, come lei giustamente ha detto abbiamo quasi 17 mila scienziati di tutto il mondo, più di 110 nazionalità. Alcuni di questi scienziati vengono da paesi che sono in guerra l'uno con l'altro, quindi chiaramente situazioni geopolitiche complicate, eppure questi scienziati qui da noi lavorano insieme animati dalla stessa passione per capire come funzionano le cose, come funziona l'universo e sviluppare gli strumenti e le tecnologie che ci permettono di affrontare queste domande. Ho notato che ci sono tantissimi giovani, a differenza di altri istituti, dove le persone sono un po' più âgées, e qui ci sono tantissimi giovani, e a me è venuto in mente che Fabiola Gianotti era una ragazzina, se non erro, 1987, questa giovane ricercatrice si presenta qui. Con quali occhi è entrata in questa istituzione, una Alice in Wonderland, un'alice nel Paese delle Meraviglie? All'epoca facevo la mia tesi di dottorato all'Università di Milano, e la prima impressione che ho avuto arrivando al CERN il primo giorno, arrivata con i miei colleghi di Milano, quindi non da sola, è stato l'odore di questi corridoi del CERN. Il CERN ha molti corridoi, tutti uguali, quindi è molto facile perdersi, e con questo pavimento in linoleum, che fa un odore ancora oggi abbastanza particolare. Mi ricordo che questo odore mi è rimasto impresso, e ancora oggi... C'è, c'è ancora oggi. C'è ancora oggi, lo sento ancora, ed è stata una sensazione molto particolare, molto... diciamo che poi mi è cara, perché ricorda i primissimi giorni al CERN. Proust, no, con le Madeleine, ci ricordava che a volte i ricordi proprio entrano con i sapori, con i profumi. Lei ha memoria del profumo che respirava in casa sua, quando era una ragazzina, una bambina? Sì, ho molta memoria dei profumi, di tanti profumi, un profumo di cui mi ricordo particolarmente quando da piccolo andavamo per le vacanze di estive a casa della mia nonna in Sicilia, la nonna materna, lei aveva un armadio in cui teneva il pane, questo pane siciliano, di farina e di mais, e si apriva questo armadio e usciva questo profumo di pane veramente eccezionale. Quindi chiaramente i profumi, gli odori, i sapori lasciano un segno nella nostra vita e sono associati a dei ricordi specifici. Il pane lo fa Fabiola Gianotti? Perché mi hanno detto che è incredibile in cucina. Ma come fa a saperlo? Ma mi sono informato. Poi Fabiola Gianotti ha una biografia che ha ovunque, con tutti i titoli che ha, insomma. No, ma è vero che per un certo periodo, in realtà, un paio di anni fa, ho deciso di fare il pane io stessa. Quindi ogni settimana mi mettevo a impastare. Poi mi sono rotta il polso, ho dovuto interrompere per qualche mese e da allora non ho più ripreso. Però in effetti dovrei rimettermi, quindi grazie anche per averlo accennato, così almeno mi dovrò rimettere il pane. C'è un po' di Sicilia, poi c'è un po' di Roma, ovviamente, è nata a Roma. Sì, un po' di Piemonte, perché mio papà era piemontese. E poi c'è Milano, ovviamente. C'è Milano e poi c'è Ginevra, quindi c'è un po' tutto. Ecco, è sbagliato dire un cervello in fuga, è un'espressione un po' retorica, un po' abusata forse, non si può dire per Fabiola Gianotti. No, la mia non è stata una vera e propria fuga. Il motivo per venire al CERN è stato che il CERN, per chi fa fisica nel mio campo, nel campo delle particelle elementari, è il paradiso, è come attirare un bambino in un negozio di giocattoli, chiudere la chiave, buttare via la chiave e lasciarcelo dentro. Insomma, è bellissimo. È il paese delle meraviglie. È il paese delle meraviglie. Quindi è chiaro che tutti i fisici del mio campo, in realtà, amano passare periodi al CERN, o a tempo pieno, come nel mio caso, oppure anche per periodi. Quindi è stata un po' una traiettoria dettata appunto dalla passione per questo lavoro e dal fatto che il CERN è il laboratorio mondiale per la fisica delle particelle. Quindi sono arrivata come giovane postdoc con una borsa di studio di due anni del CERN e pensando poi di tornare a Milano dopo due anni poi invece ho avuto un posto permanente, quindi sono rimasta. E al CERN Fabiola Gianotti ha fatto una carriera straordinaria, tra l'altro è stata a capo del progetto Atlas che ha portato a una data storica, siamo al 4 luglio del 2012, quando proprio Fabiola Gianotti, a capo di un team di allora 3.000 scienziati, alla presenza di Peter Hicks, un fisico, lei ha fatto un annuncio strepitoso. Sì, il 4 luglio 2012, due esperimenti più grandi del Large Hadron Collider, che è l'acceleratore più potente che l'umanità ha mai costruito che appunto è un po' il progetto bandiera del CERN. Quindi questi due esperimenti Atlas e CMS hanno annunciato la scoperta di questa nuova particella molto speciale, il bosone di Higgs. Io all'epoca ero a capo dell'esperimento Atlas e insieme con il mio collega Joe Incandela che era capo di CMS abbiamo avuto l'onore di rappresentare il lavoro fatto da migliaia di fisici, ingegneri, tecnici per molti, molti anni, che ha appunto portato a questa grandissima scoperta. Quindi è stato un grande onore, un grande privilegio per me poter rappresentare questa grandissima comunità e questo sforzo collettivo in mane. Perché ci dà le vertigini un bosone? Perché ci permette di capire che cosa è successo nei primissimi istanti dell'evoluzione dell'universo. Noi oggi sappiamo che l'universo ha avuto origine da una grande esplosione 13,8 miliardi di anni fa che si chiama Big Bang e con gli acceleratori del CERN, con il Large Hadron Collider noi possiamo risalire alle condizioni dell'universo a un'epoca che corrisponde a un milionesimo di milionesimo di secondo dopo il Big Bang. Quindi questo vuol dire che l'energia che produciamo negli scontri dei nostri fasci di particelle corrisponde alla temperatura che l'universo aveva in quell'epoca. Quindi siamo capaci di riprodurre in laboratorio in maniera controllata quello che è successo nei primissimi istanti di vita dell'universo. Adesso sono io che devo spiegare a lei cosa si fa in questi tubi che per esempio vediamo alle sue spalle rappresentati in una fotografia fatte collidere delle particelle e poi trovate i mattoni elementari senza i quali io e lei non esisteremo. Esattamente, quindi la fisica delle particelle in realtà è la più fondamentale di tutte le scienze perché studia i costituenti più piccoli e indivisibili di cui il termine elementari della materia di cui lei e io siamo fatti di cui l'universo visibile è fatto tutto quello che ci circonda e quindi ci permette veramente di andare a studiare le questioni più fondamentali. Il bosone di Higgs in particolare è così speciale e così importante perché permette agli atomi di cui noi tutti siamo fatti di essere sistemi stabili quindi di resistere, di esistere e quindi se gli atomi non fossero stabili noi non ci saremmo ecco, quindi il bosone di Higgs è abbastanza importante anche per la nostra stessa vita. SONIA 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 La CERN, ovvero l'Organizzazione Europea per la ricerca nucleare con tutto questo sforzo umano anche degli stati membri che sovvenzionano questa istituzione nata nel 54 quindi che ha riportato anche un po' in Europa il primato della scienza dagli Stati Uniti ecco, oltre a avere un senso perché risponde all'impulso tipicamente umano della conoscenza in un'applicazione pratica e quotidiana il bosone di Higgs a parte il fatto di esistere ecco, ma la ricerca che fate qui dà anche dei risultati così puramente di vita quotidiana. ha detto bene perché chiaramente lo scopo delle nostre ricerche è legato alla conoscenza pura quindi a capire la struttura e l'evoluzione dell'universo e chiaramente rispondere a domande molto importanti come la vita essenzialmente quello che è successo nel corso della storia dell'universo che ha portato poi alla nostra presenza sulla Terra eccetera quindi questo è chiaramente molto importante però l'impatto sulla vita di tutti i giorni cede molto grande perché per rispondere a questi obiettivi e questi acquisiti molto ambiziosi dobbiamo sviluppare costruire e operare strumenti molto grandi per esempio il Large Hadron Collider vedete la foto il tunnel sotterraneo è un tunnel di 27 km riempito di tecnologia magneti superconduttori eccetera quindi dobbiamo costruire delle tecnologie di punta che di solito al momento in cui il CERN ne ha bisogno non esistono ancora quindi il CERN in qualche modo è come si dice un driver of innovation perché spinge la tecnologia al di là di quello che la società in quel momento richiede o che l'industria sa fare e quindi noi sviluppiamo queste tecnologie in laboratorio e poi le trasferiamo all'industria che costruisce le migliaia di componenti di cui abbiamo bisogno ma esempi di applicazioni delle tecnologie del CERN a vantaggio della vita di tutti i giorni sono numerosi il World Wide Web fu inventato al CERN da Tim Berlesley esattamente è cambiato il modo in cui la società accede all'informazione usiamo i nostri acceleratori le tecniche le tecnologie di acceleratori del CERN sono applicate per esempio per curare i tumori usando fasci di protoni o fasci di ioni leggeri come ioni carbonio con un trattamento diciamo complementare e a volte in alcuni casi più efficace che la terapia tradizionale le tecniche di vuoto del CERN sono utilizzate per costruire pannelli solari e così via quindi veramente c'è un grandissimo spettro di tecnologie del CERN che vengono utilizzate per la vita di tutti i giorni in particolare nel campo medico ma non solo certo poi l'impressione ovviamente è come scienziato la condizione è quella di essere in perenne un po' frustrazione non so se dire così ma insomma di spiare vero da una fessura di una porta di fronte al grande mistero della vita e dell'universo fatti foste non per vivere come brutti ma per seguire di tutte conoscenze dice Dante esattamente era una parola che metteva in bocca Ulisse quando la sua ciurma diceva no fermiamoci qui invece lui voleva andare oltre nella conoscenza ma c'è un momento in cui è opportuno fermarsi spegnere le macchine e riflettere ma cosa stiamo facendo ma questo processo è un processo continuo cioè mentre si opera un certo acceleratore un certo strumento si pensa sempre innanzitutto a quello che stiamo facendo qual è il prossimo passo ma anche a capire e a interpretare i dati che vengono prodotti da questi strumenti quindi è un continuo porsi nuove domande in realtà ogni volta che si ottiene un risultato a parte il risultato per sé che è interessante anche la scoperta del bosone di Higgs ha chiuso un capitolo perché era una particella che era stata cercata per 50 anni ma ha aperto una lunga lista di domande e di questioni a cui adesso dobbiamo rispondere quindi fare scienza e fare ricerca e anche capire se le questioni e le domande che ci stiamo ponendo sono le domande corrette e ogni volta riaggiustare il tiro per andare nella direzione che invece è più corretta quindi è un continuo processo molto molto affascinante legato intrinseco all'intelligenza alla creatività dell'essere umano come essere pensante ecco la scienza ogni tanto procede non dico per errori sì a volte anche per errori ma per esempio la penicilina è stata scoperta così casualmente certo voi nella vostra strategia di ricerca che spazio date alla casualità? c'è spazio per la casualità nel senso che quando noi per esempio facciamo questi esperimenti ai nostri acceleratori è chiaro che molte volte cerchiamo dei fenomeni che sono magari stati previsti dalla teoria o magari abbiamo un nostro preconcetto per cui pensiamo che la risposta a una certa domanda la va cercata in quella direzione ma siccome la natura è molto più intelligente di noi e può aver trovato altre soluzioni ai problemi i nostri esperimenti lasciano ampio spazio anche a ricerche molto senza nessun tipo di bias nessun tipo di pregiudizio che permette di trovare cose nuove anche negli angolini dove magari non andiamo a cercare in maniera ordinata e strutturata quindi è molto importante lasciare appunto questa serendipity come si dice questa possibilità di scoprire senza accorgersene senza averlo programmato il web è lui stesso un prodotto di questo tipo di idea e Tim voleva facilitare lo scambio di informazione fra gli scienziati del laboratorio e quindi scrisse una nota interna dicendo che questo era quello che lui appunto proponeva e a mano il suo supervisor scrisse è interessante ma richiede ancora sviluppi ulteriori e quindi in un altro ambiente magari più rigido il capo di Tim Berners-Lee avrebbe detto ma no non perdere tempo con queste cose devi fare il tuo lavoro ecco invece al CERN c'è la possibilità di dedicare anche del tempo a far andare la testa la creatività a inventare la natura si esprime con l'evoluzione attraverso l'errore nasce un cavallo col collo lungo lo trova a posto ambiente la giraffa l'uomo poi è caratterizzato sì per grandi doti intellettuali sa imbrigliare l'atomo però è anche caratterizzato perché per gli errori cioè insito nell'uomo l'errore scivola sulla buccia di banana imbriglia l'atomo ma magari scivola sulla buccia di banana lei ha paura di un incidente se intende un incidente di un incidente cui certo se è un incidente che è legato per esempio alla sicurezza questa è la mia la mia paura più grande se vogliamo la mia inquietudine più grande ma non mi tiene sveglia la notte nel senso che il CERN ha messo in piedi delle norme di sicurezza che sono veramente a livello elevato che discutiamo tra l'altro con i due paesi ospitanti la Francia e la Svizzera grazie anche alla Svizzera di essere il paese che ci ospita il nostro quartiere generale è in Svizzera e la Svizzera ha sempre sostenuto il CERN ma insieme con la Francia e la Svizzera noi discutiamo a livello diciamo tripartitico diciamo e su tutti gli aspetti di sicurezza che vadano dalla radioprotezione a altro e di solito il CERN cerca di utilizzare e di imporre di implementare le regole che sono le più strette le più costringenti diciamo le più vincolanti dei due paesi ospitanti direttrice lei abita a Ginevra la città del dottor Frankenstein almeno così l'aveva descritto Mary Shelley il dottor Frankenstein è l'emblema di uno scienziato che crea un essere che non nasce da donna e non è pensato da Dio quindi è un po' l'emblema dello scienziato che passa un po' il limite lei il problema la questione più che un problema di quali limiti avere in un istituto come questo e in una prospettiva come questo se lo pone mai diciamo che il CERN non si trova non è e la fisica delle particelle non sono in quei campi che sono un po' diciamo delicati dal punto di vista etico come possono essere per esempio non so gli aspetti più le scienze della vita la genetica per esempio e tra l'altro le tecnologie che noi sviluppiamo non si prestano molto all'applicazione in campo militare quindi questo famoso dual use ci sono poche tecnologie al CERN che veramente si prestano e richiedono sviluppi molto particolari quindi siamo un pochettino diciamo protetti da questo punto di vista però è chiaro che il problema dell'etica della scienza della tecnologia pensiamo all'intelligenza artificiale è un problema estremamente moderno estremamente importante tutti gli sviluppi scientifici e tecnologici vanno fatti in modo responsabile ovviamente abbiamo citato Mary Shelley e alludiamo alla letteratura lei ha fatto studi classici latino e greco anche quei libri i libri della letteratura rispondono alle grandi domande della vita perché poi ha scelto i numeri e la scienza ho scelto i numeri perché da piccola nonostante tutti gli studi materie scientifiche classiche la musica eccetera era una bambina molto curiosa mi ponevo molte domande domande fondamentali l'universo come è evoluto soprattutto legate alla natura e per questo anche amavo molto la filosofia perché la filosofia si pone domande effettivamente e ho avuto l'intuizione che la fisica mi avrebbe forse permesso nel mio piccolo di contribuire o forse un po' a rispondere ad alcune domande ma anche di capire meglio di poter soddisfare questa sete di capire come funzionano le cose ed è appunto questo che mi ha spinto alla fisica e poi alla fisica delle particelle che è la più fondamentale di tutte quindi veramente va a rispondere va a affrontare a rispondere tutte le domande più fondamentali due anime la pianista la letterata la mamma era una letterata siciliana il papà invece un geologo scienziato quindi è stato lui che ha introdotto lei ad osservare la natura devo dire che entrambi i genitori hanno avuto un impatto molto molto importante su di me papà vero con la sua passione per la natura come geologo effettivamente mi ha inculcato questo amore per la natura io ricordo interminabili passeggiate in montagna dove ci si fermava ogni passo osservare il fiore la pianta la farfalla eccetera quindi il sasso quindi tutto questo ha contribuito al mio amore per la natura e per la scienza e poi dalla mamma ho avuto invece altre altre doni grandissimi come appunto l'amore non soltanto per la musica e per la letteratura ma anche chiaramente tutto l'insieme dell'educazione che i miei genitori mi hanno dato anche di valori di di umiltà anche io mi ricordo i loro insegnamenti di integrità di umiltà di rispetto e tutte queste cose poi chiaramente sono state importanti per me come Fabiola come persona ma anche nel mio lavoro ovviamente abbiamo evocato un'epoca della vita che è quella dell'infanzia io ora le sottopongo un piccolo filmato vediamo se riconosce di cosa si tratta dunque è ancora lontano no no siamo proprio vicini aspetta rallenta ah ecco San Joseph a destra a destra e ora me lo date o no il premio altro che se troviamo e adesso ci porterai dal nonno si è qui vicino bene materiale che arriva dagli archivi RAI lo dico subito però lei non l'ha detto i suoi collaboratori io ho detto ma lo sapete che vostra direttrice ha fatto anche l'attrice cos'è questa storia? ma avevo nove anni all'epoca devo dire che anche lì devo ringraziare la mia mamma che era molto visionaria era molto moderna ha capito che è molto importante anche per i bambini sapersi esprimere uscire dal proprio guscio di timidezza e quindi ha avuto l'occasione non so come fosse capitato per me e mio fratello di fare qualche piccola particina in televisione e quindi aveva accettato e poi io ho accettato anche con molto piacere è stata un'esperienza anche molto bella poi dopo invece per molti anni ho lavorato part time chiaramente perché la professione principale era la scuola facendo un po' di doppiaggio e quindi tutto questo l'insieme delle esperienze contribuisce a quello che noi siamo e quindi poi è stato anche utile poi nel futuro quando ho dovuto comunicare per esempio come con lei tutte queste esperienze aiutano un'eclettica quindi attrice pianista diplomata diplomata al conservatorio ballerina danzatrice e poi ovviamente la scienziata la fisica la direttrice la manager di questa istruzione adesso non mi dica che fa parapendio perché non ci crederei ho paura soffro di vertigini il cinema è ancora una passione per Fabiola Giannotti sì senz'altro poi mi piace il cinema nelle sale cinematografiche devo dire amo molto essere lì insieme con la gente però purtroppo è molti anni che non ci vado poi con il covid e tutto è stato un po' purtroppo adesso dovrei ricominciare le sue amicizie le pesca fra i licenziati o no? che fa nel tempo libero? non necessariamente diciamo che le scelgo in base alle affinità umane ho molti amici che sono al di fuori della fisica come ho anche molti amici al CERN quindi veramente le amicizie le scegliamo sulla base dell'affinità e l'interesse che certe persone suscitano in noi c'è un'affinità particolare fra le donne vorrei usare un termine un po' forse desueto una sorta di sorrellanza fra le scienziate in un contesto che per anni è stato considerato più che altro appannaggio maschile in quanto donna e scienziata lei ha dovuto sgomitare di più o lottare di più? diciamo che purtroppo le donne sono ancora in minoranza oggi siamo il 20% al CERN nel nostro campo in generale e quando io arrivai qui come giovane postdoc eravamo forse l'8 il 9% quindi c'è stato molto progresso ma non siamo ancora ai livelli di equilibrio direi io non mi sono mai sentita discriminata e non penso di essere lo Stato altrimenti non sarei dove sono però è vero che bisogna sempre dimostrare qualcosa di più e poi essendo chiaramente in minoranza abbiamo sempre gli occhi puntati su quello che facciamo e quindi in qualche modo come disse un mio collega un giorno Fabiola non ha il diritto all'errore perché siamo molto così in qualche modo osservate essendo poche nel campo quindi siamo un po' sempre sotto esame e questo alla lunga può essere anche un po' faticoso poche ma illustre e come la storia è piena di scienziate strepitose Rita Levi Montalcini Amalia Ercoli Finzi Marie Curie avete anche una strada una via un otato dedicata proprio a Marie Curie che ha sacrificato molto per la radiochimica tra l'altro ha vinto due premi Nobel ha sacrificato molto ora io vorrei farle una domanda lei che cosa ha sacrificato comunque per questo suo ruolo per il suo lavoro beh si devono sempre fare dei sacrifici nella vita non si può ottenere tutto senza mettere da parte qualcosa diciamo se scegliamo di fare qualcosa bisogna mettere da parte qualcos'altro chiaramente ho avuto molto meno tempo magari di altri miei coetanei quando ero giovane per esempio per gli svaghi tipici dell'età perché chiaramente avendo la scuola il pianoforte poi magari anche il doppiaggio e questo riempiva la mia vita e così avanti poi con questa professione chiaramente che molto la ricerca è una professione che assorbe tutto il tempo l'idea buona può venire mentre si è in coda al supermercato mentre si aspetta di pagare alla copp diciamo quindi la testa va sempre però penso che l'importante sia mantenere sempre una vita equilibrata quindi avere sempre un po' anche lo spazio per interessi che possono essere lo sport la musica la famiglia gli amici quindi è molto importante anche avere una testa aperta perché appunto la scienza e la ricerca si basano sulle idee quindi se si è troppo e solo focalizzati su quello che si sta facendo nel quotidiano poi si perde un po' la visione globale io non so se posso permettermi di fare una domanda spero di essere delicato abbastanza una donna come lei che è così predisposta alla meraviglia del mondo e della natura ha mai vissuto con un certo rammarico il fatto di non aver vissuto l'esperienza della maternità e di una propria famiglia certo c'è un po' di rammarico ma questo non penso sia dovuto alla mia professione è dovuto al fatto che nella vita ci sono delle opportunità che si presentano che non si presentano e nel mio campo nel campo professionale mi ha offerto molte più opportunità di quanto poi non sia stato nel campo del privato quindi non penso che sia dovuto in realtà al mio lavoro perché ho molte colleghe bravissime che lavorano tantissimo e che hanno avuto una vita familiare molto ricca con moltissimi figli quindi sì mi dispiace perché ovviamente avere figli è un desiderio normale di una donna però bisogna anche trovare la persona giusta e trovare le condizioni giuste e quindi chiaramente questo non è stato il mio caso poi magari il caso la porta addirittura sulla rivista di Topolino se non proprio quella di Time la lista dei titoli di Fabiola Gianotti effettivamente è impressionante l'Accademica dei Lincei poi professoressa universitaria ovviamente l'Ambrogino d'Oro la rivista Forbes che la definisce una delle donne più influenti al mondo la rivista la copertina di Time nell'anno di Obama e poi un asteroido porta il suo nome dottorati onoris causa non so dove trova lo spazio in cucina per metterli oppure in salotto e poi i titoli italiani comandatore della Repubblica grande ufficiale cavaliere di Gran Croce al merito è un titolo assegnato dal presidente della Repubblica davvero sono titoli impegnativi che danno grande autorevolezza a lei ma che per un certo verso rischiano anche di ingabbiarla nei suoi movimenti cioè lei è libera di dire e di fare un po' quello che sente beh innanzitutto questi titoli ovviamente anche le pagine dei giornali sono chiaramente un privilegio è un onore per me la cosa importante è che permettono anche di valorizzare la scienza e quindi chiaramente io sono molto grata al presidente della Repubblica di aver premiato me e altri colleghi scienziati perché chiaramente danno un segnale anche agli italiani che la scienza è importante e viene compensata per quello che si raggiunge e quello che si fa no io non mi sono mai sentita ingabbiata devo dire mi sento una persona molto libera e devo dire sono anche grata appunto di aver avuto questa opportunità come oggi di parlare con lei quindi di poter anche condividere quello che facciamo la nostra pressione per la ricerca con tante persone che ci ascoltano fra gli altri titoli e qui poi arriviamo verso la conclusione è stata anche nominata membro della Pontificia Accademia delle Scienze dal Papa e qui ovviamente entriamo nel tema della fede uno potrebbe pensare che una scienziata non può credere in Dio o c'è una mano ordinatrice che ha trasformato il caos in cosmo diciamo che ci sono diverse interpretazioni su questa cosa per me la fede la religione e la fisica e la scienza non sono campi che si diciamo in conflitto io penso che ci sia un'intelligenza dietro all'ordine alla bellezza all'armonia del cosmo ma ci sono anche molti scienziati che la pensano diversamente quindi non penso che la scienza che la fisica possa mai dimostrare l'esistenza di questa mente oppure dimostrare che questa mente non esiste quindi tutto è lasciato alla coscienza personale comunque l'Accademia del Pontificio delle Scienze è molto bella perché appunto mette insieme scienziati di diversa religione di credenti con non credenti insomma quindi come tutte le accademie è un ambito molto è un luogo è molto molto ricco è molto interessante anche per le discussioni che si tengono direttrice grazie veramente di cuore per averci accolto dunque a casa sua possiamo questa sera una sonatina di Bach o una torta in forno una sonatina di Bach magari con la torta mentre la torta cuoce e grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia ci rivediamo fra una settimana buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.